Basterà una nuova e violenta pioggia a far richiudere nuovamente la statale 87, Benevento Campobasso, nel tratto interessato dalla frana alle porte del capoluogo Sannita. Non una previsione pessimista, bensì un dato di fatto. Basta infatti transitare lungo le arterie e notare come lo smottamento di terreno abbia nuovamente immaso interamente una delle due corsie, quella chiusa al traffico ormai da anni e protette da barriere in cemento che puntualmente vengono scavalcate, travolte e spostate dalle frequenti colate di fango e terriccio che nessuno sembra riuscire a fermare. Alla base della frana, come si ricorderà, una sorgente di acqua che nel passato era incanalata evidentemente in un mallone, che di fatto non esiste più o che oggi è insufficiente a raccogliere la grande quantità di acqua. Per ora quello che appare certo anche dalle immagini è che il terreno si è nuovamente accumulato a margine della carreggiata e che da un momento all'altro potrebbe immadere anche l'unica corsia percorribile e che già in passato era stata interessata da grandi quantità di terreno. Sull'argine pericoloso sono installate telecamere e sensori dell'Università del Sannio e dell'ANAS che da tempo cercano una soluzione al problema che però non è stato mai risolto nonostante l'anno scorso tre auto fossero rimaste bloccate in un'improvvisa e pericolosissima colata di fango.